buon lunedì buon inizio di siamo tornati nel nostro solotto di pur parlè per chiacchierare di che cosa di tanta storia attualità costume oggi tanta storia dell'arte quindi vi voglio tutti i partecipi perché andremo con la nostra dottoressa la nostra restauratrice preferita in un percorso fatto di magie e arte targata raffaello quindi ci saranno tantissime sorprese e tanti collegamenti e appunto come piace a voi tantissima cultura e storia dell'arte oggi c'è la frase del giorno certo ringraziamo la regia di francesco di carlo perché si è arrabbiato venerdì che non ho detto ho scambiato il suo nome con francesco marconi chiedovenia regia e il nostro sergio de angelis e ringraziamo milena depallo perché proprio lei ha selezionato la frase del giorno appunto perché dedichiamo questa puntata all'arte l'arte non è uno specchio su cui riflettere il mondo ma un martello con cui scolpirlo bellissima vediamo che cosa ne pensano i nostri ospiti sigla eccoci eccoci iniziamo questa puntata con il nostro numero di telefono e ricordando sempre il nostro concorso io ci sono che durerà ancora per tanto tempo quindi ricordiamo come partecipare io ci sono dimostracelo fai sapere a vera tv che ci sei e vera tv ti manda in vacanza con l'operazione a premi iper vacanze più partecipare è semplicissimo basta seguire i programmi in diretta di vera tv canale 79 durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri invia il numero che vedi in sovraimpressione entro tre minuti tramite sms whatsapp al 349 366 22 46 in palio oltre 400 buoni vacanza da due o quattro persone pronto a segnare i numeri io ci sono dimostracelo e vera tv ti manderà in vacanza regolamento e tutti i dettagli su vera tv punto it slash concorso bravi io lo so che state continuando a mandare i messaggi bravissimi e se seguite anche vera mattina in diretta con i miei bravissimi colleghi dalle 9 fino alle 13 e 30 avrete l'opportunità di vedere pure chi sta vincendo è che magari siete voi stessi quindi continuate continuate perché noi non ci fermiamo siamo talmente tanto bravi buoni che vi regaliamo tantissimi buoni vacanza solo esclusivamente per voi quindi premiate la vostra fedeltà noi premiamo la vostra fedeltà ed è un rapporto di fiducia meraviglioso quello che si sta ora ogni giorno con la vera tv il nostro pubblico e siamo tanto tanto contenti grazie 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 per seguirci numerosi anche nelle nostre pagine quindi vi invito perché non l'avesse fatto visto che viviamo tantissimo con lo smartphone tutti i giorni scrollando notizie avendo anche le recenti novità che riguardano appunto il dpcm sulle scelte del governo draghi in merito a quelle che sono stati appunto gli ultimi capitoli iscritti della nostra italia sui regolamenti anti covid con la speranza che tutto questo si possa mitigare e far scemare ancora di più in qualche modo questa emergenza pandemia e soprattutto ritornare ad una vita normale perché tutti lo vogliamo e tutti ne abbiamo bisogno quindi mi raccomando vi invito sempre vi esorto sempre a rispettare le regole vigenti così riusciamo ad uscirne soprattutto ecco vaccinandoci anche grazie a questa grande scoperta scientifica perché è veramente importante se ne parlerà tantissimo per i prossimi decenni su quello che è stato scoperto e su tutto quello che sta portando avanti questa dura battaglia e sono certa che ne usciremo fuori allora non mi dilungo perché sono un'eterna chiacchierona come sempre iniziamo però a far partecipare i nostri ospiti che loro hanno tanto da raccontarci vi invito a fare tutte le domande che volete sugli argomenti che tratteremo oggi e magari anche a salutarci perché no a dirci quello che pensate o proporci un argomento che vi interessa al 392 944 1132 quando volete per queste due ore di diretta e quindi vi dicevo mettete il like sulle nostre pagine vera group tv sia social appunto quindi sia instagram che facebook e seguirci ovviamente sul nostro sito www.veratv.it dove potete anche vederci in streaming se non riuscite a collegarvi da casa o siete fuori casa quindi potete scaricarvi anche l'app bene dopo questo memorandum dobbiamo ricordare la data di oggi sono trascorsi 35 anni ed era la notte del 26 aprile del 1986 la regia adesso ci metterà delle immagini per ricordare visto che è doveroso farlo un minimo di approfondimento su quella catastrofe che poi è diventata famosa appellandone appunto è stata chiamata appunto come la catastrofe nucleare più importante della storia quella di chernobyl ed era appunto la notte del 26 aprile dei 35 anni fa il mondo ancora non lo sapeva non lo sapevano neanche le decine di migliaia di persone che abitavano poco distanti tra il confine tra ucraina e belorussia ed è stata lì che si è consumata la prima catastrofe nucleare incontrollata il simbolo che il controllo dell'uomo non può essere mai totale vent'anni dopo nel 2011 un onda di tsunami provocò un incidente che per gravità può essere paragonato a chernobyl ovvero appunto quella che riguarda sempre la centrale nucleare di fukushima beh la gravità alla fine le cause le sappiamo le ribadiamo queste sono delle immagini che purtroppo sono difficili da digerire eppure è la realtà è quello che oggi c'è ed è uno scenario abberrante se chernobyl si verificò certamente a causa dell'uomo fu fukushima apparentemente fu dovuto a cause di tipo naturale però comunque a prescindere questo è parzialmente non attendibile perché comunque c'è sempre la mano dell'uomo sicuramente le onde dello tsunami hanno influito tantissimo ma è vero anche che per comunicazione tempestività controllo e gestione dell'emergenza l'uomo avrebbe potuto sicuramente fare molto di più di qui si aprirebbe una compagine che sicuramente approfondiremo nel seguito di questa settimana con persone che ovviamente conoscono la materia e cercando di capire dov'è la verità e qual è il risvolto anche per un futuro sostenibile dal punto di vista energetico perché adesso più che mai con l'agenda 2030 gli argomenti saranno sempre solo questi non possiamo più divertirci e far finta di nulla perché ogni giorno inquiniamo ogni giorno sbagliamo ogni giorno dobbiamo cambiare è un obbligo è un dovere civile civico ma lo è per noi perché con le immagini che abbiamo visto poco fa comunque in qualche modo la natura si riprende tutto e riesce anche a gestire la radioattività in qualche modo l'uomo no quindi siamo noi le prime vittime di questa insostenibilità a livello ambientale quindi è giusto e doveroso che noi dobbiamo iniziare a pensare non solo a rispettare noi stessi ma soprattutto l'ambiente che ci ospita bene oggi parliamo di storia dell'arte e diamo il ben ritornata nel nostro studio alla nostra restauratrice preferita la bravissima dottoressa Eleonora Vittorini Orgeas buon pomeriggio dottoressa Eleonora anche a te grazie mille dell'invito ancora una volta e a grande richiesta a grande richiesta per tutti gli amanti della storia dell'arte ma soprattutto per andare a capire effettivamente tutta quella grandissima laboriosità e tutto quel grandissimo lavoro che viene svolto quotidianamente da enti che non sono solo rappresentativi dello Stato ma anche privati che preservano la bellezza delle opere d'arte perché il nemico numero uno è il tempo e ovviamente l'invecchiamento delle opere stesse l'inquinamento delle opere e tutto quello che di esogeno visto che abbiamo narrato poco fa ricordato a Chernobyl che può aggredire anche le stesse opere per mano dell'uomo quindi parliamo di incidenti che possano essere sia indotti a livello naturale quindi terremoti catastrofi alluvioni inondazioni ma anche incendi dolosi o perché no proprio persone che volontariamente purtroppo abbiamo visto si rientra nel danno antropico no purtroppo arrecano danno le nostre meraviglie al nostro meraviglioso patrimonio che dobbiamo tutelare per tutelarlo dobbiamo conoscere e quindi grazie alle nostre dottoresse facciamo questo meraviglioso viaggio e oggi vi piacerà tantissimo perché parleremo niente po' di meno di chi del grande Raffaello fantastico e in collegamento abbiamo la nostra archeologa preferita e ritorna con il suo sorriso la sua grande capacità la sua grande professionalità di comunicare a tutti la storia e l'amore per l'archeologia la dottoressa andrea di giovanni ciao buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio andrea ben ritrovata iniziamo un percorso storico e doveroso dottoressa lenora chiaramente certo beh allora oggi in realtà parleremo di un'opera in particolare anzi io ti ho portato una sorpresina prendo dalla scatola bene 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 vediamo la nostra scatola magica si vediamo di indovinare il quadro in questione allora wow si vediamo eccolo abbiamo questo è un particolare che è in copertina allora parliamo di Raffaello in particolare della Madonna del Cardellino beh allora parliamo della Madonna del Cardellino quindi siamo nel 1507 Raffaello sappiamo che nasce nelle Marche quindi nasce a Urbino nel 1483 Raffaello nasce da un padre pittore per cui sarà lui proprio a dare i primi rudimenti della pittura al giovane artista che purtroppo a 11 anni rimane orfano e continuerà comunque a studiare pittura con dei grandi artisti il primo fra tutti in realtà il perugino Raffaello prima di dipingere appunto quest'opera importantissima avrà una una carriera che lo porterà a cambiare molto l'ambiente in cui appunto si trova poi a operare oltre alle Marche infatti Raffaello sarà in Umbria e poi approderà finalmente a Firenze parliamo infatti di un periodo fiorentino seguito poi dal periodo cosiddetto romano fino poi alla sua morte periodo fiorentino quindi parliamo di quattro anni quattro anni in realtà molto intensi all'interno del quale per l'appunto avverrà la realizzazione di questo capolavoro in quel momento in quegli anni Firenze è un periodo è un ambiente frizzante è un ambiente molto vivace soprattutto perché i grandi protagonisti sono ovviamente Michelangelo e Leonardo per cui Raffaello sarà un po' il terzo divino della triade e ovviamente andando in contatto con queste personalità Raffaello non può far altro che prenderne spunto ma la grandiosità dell'artista è proprio anche quella di riuscire ad emulare quindi di far proprio quelle che poi sono le lezioni di questi due grandissimi artisti e la Madonna col Cardellino sarà proprio una delle opere che riuscirà a produrre in questo periodo a quell'epoca i nobili fiorentini fanno proprio a gara per commissionare grandi capolavori agli artisti e Raffaello conosce un ricco mercante fiorentino che si chiama Lorenzo Nasi nel 1507 proprio in occasione delle nozze Raffaello dipinge la Madonna del Cardellino e la appunto proprio in occasione delle nozze fa questa questa grande opera che è un dipinto ad olio su tavola un'opera della grandezza siamo su un metro per 70 centimetri e quest'opera su su tavola avrà subito diciamo una grande fama Lorenzo Nasi sarà particolarmente affezionato a quest'opera opera ecco apparentemente molto semplice perché vediamo una composizione piramidale no abbiamo la Madonna che è seduta su una roccia all'aperto quindi a un plenet e abbiamo i due bambini che sono di fronte a lei quindi nella mano sinistra lei tiene un libricino i sacri scritture ma viene diciamo distratta dai due bambini per cui guarda amorevolmente in basso verso il San Giovannino che porge un uccellino al Gesù quindi apparentemente l'atmosfera è molto placida serena si intravede sullo sfondo una città dalla cupola sembrerebbe Firenze ma in realtà riusciamo a zoomare in regia così vediamo l'immagine allora questa è una delle madonne di Raffaello la Madonna col cardellino assomiglia molto a questa proprio nell'impostazione per cui abbiamo appunto la Madonna centrale e i due i due bambini in realtà ecco la la pittura per l'appunto di Raffaello riprende moltissimo da Leonardo e anche ovviamente da Michelangelo quindi da Leonardo l'impostazione piramidale e da Michelangelo invece la monumentalità delle delle figure questa è una per l'appunto delle madonne di Raffaello e lui farà molte varianti per l'appunto sul tema però la Madonna col cardellino ha un'intensità particolarmente forte dal punto di vista artistico e densa anche di significati religiosi simbolici simbolici assolutamente il problema di questo quadro però è che diciamo è sfortunato sin dalla nascita perché nel 1507 abbiamo detto viene dato per le nozze di Lorenzo Nasi ma purtroppo 40 anni dopo succede un evento quindi abbiamo parlato di catastrofi in questo caso parliamo di una frana c'è uno smottamento della collina che si trova proprio dietro Palazzo Nasi e quindi a causa purtroppo della frana il terreno devasta alcuni palazzi tra cui per l'appunto anche Palazzo Nasi e quindi i detriti i frammenti del terreno trascinano parte degli arredamenti tra cui purtroppo anche la nostra il nostro dipinto la nostra Madonna del cardellino che quindi viene purtroppo è frantumata a seguito di questo evento un evento ovviamente catastrofico naturale viene frantumata addirittura in 17 frammenti in 17 pezzi cosa è successo ovviamente Lorenzo Nasi quindi qui queste immagini che stiamo vedendo allora queste realtà sono delle immagini del restauro però possiamo già intravedere da questi segni bianchi in realtà sono le fratture su cui sono state fatte delle stuccature in gesso possiamo vedere come era l'opera in questo caso allora stiamo parlando di affresco allora in realtà stiamo parlando di una pittura su tavola una pittura ad olio su tavola quindi è proprio la pittura su tavola che a un certo punto si frantuma a causa cioè di questo evento catastrofico abbiamo il terreno che quindi trascina con sé ovviamente violentemente una serie di arredi purtroppo questa tavola viene frantumata si vede bene non so se nella radiografia la radiografia che viene fatta nel corso dell'ultimo restauro ci fa vedere proprio la situazione del supporto lineo del dipinto ecco questo è il dipinto della madonna del cardellino prima del restauro quindi come c'è si vede dai colori che non sono gargianti nome l'immagine che abbiamo visto all'inizio esatto questa è proprio l'immagine non nel cardellino come è arrivata nel 1999 cioè quando è iniziato l'ultimo grande restauro di cui infatti si parla per l'appunto nel libro ecco e questo è il dopo il restauro è stato molto complesso ci riesce a far capire bene con degli esempi cara Eleonora il perché dell'avanzamento del colore possiamo capire e captare che un'opera d'arte una statua può in qualche modo perdere il suo colore originario a causa di tanti fenomeni esogeni atmosferici e voi anche oggi a causa dello smog soprattutto se dovessimo parlare di città come Roma certo o come Milano però ecco soprattutto Roma ma un dipinto in questo caso su tavola per quale motivo il colore arriva ad avere quello stadio quella opacità in qualche modo se si può definire così non so se sbaglio nel definire sì sì ma in realtà ecco il colore che abbiamo visto risulta in questo caso da una sovrapposizione di interventi perché nel 1547 quando a un certo punto c'è questo evento catastrofico e purtroppo la tavola si frantuma in tutti questi pezzi il figlio di Lorenzo Nasi quindi Giambattista raccoglie i pezzi e li riassembla nel miglior modo che potette così dice il Vasari quindi per Lorenzo Nasi era molto caro questo questo dipinto quindi viene effettuato un primo riassemblamento e quindi anche un primo restauro da come si da come dice il Vasari molto probabilmente era Ridolfo del Ghirlandaio il primo che si che si cimentò in questo restauro dell'opera anche perché la fama di Raffaello era già importante allora quindi c'era anche abbastanza cura ora questo primo restauro del 1547 è vero che ha riunito i frammenti però ovviamente ha anche ha portato delle ridipinture o perlomeno sono state dipinte le parti in cui è caduto il colore ma una volta i restauratori come abbiamo già detto erano dei pittori che un po' si improvvisavano nel restauro e che quindi spesso ridipingevano anche sopra il colore originale dopo questo restauro in realtà abbiamo un altro restauro nel 1804 di cui si sa un po' poco e un altro l'ultimo nel 1821 in cui vengono eseguite anche qui una serie diciamo di puliture per togliere dei ritocchi precedenti e però vengono effettuate altre ridipinture probabilmente sarà in quell'occasione che verrà messa una vernice che infatti poi ha dato quel colore come dici opaco giallo brunito che quindi poi ha ruinato esteticamente la visione di questo grande capolavoro. Mi sto soffermando veramente su queste immagini che sono di una bellezza si una delicatezza no stimolano proprio la dolcezza sì assolutamente quella di quando tu guardi un bambino che ti osserva che osservi nella sua nella sua genuità nella sua dolcezza infinita e nella sua soprattutto essenza perché i bambini sono così sono esseri divini. Sì ecco era proprio questo quello che voleva trasmettere Raffaello a livello iconografico è proprio questo che si coglie cioè in questo dipinto potremmo dire infatti come ho accennato prima certo apparentemente è molto semplice no quindi abbiamo una la Madonna che è un po' al vertice di una sorta di triangolo ideale e quindi ha questo andamento un po' così a cuspide a piramide con questi due bambini che lei guarda in maniera appunto molto tenera molto amorevole molto materna esattamente infatti è vero Raffaello riprende da Leonardo e da Michelangelo però emula i grandi maestri perché riprende per esempio da Leonardo questo andamento piramidale perché il Leonardo c'è per esempio nel cartone di Sant'Anna con la Madonna e il bambino e San Giovannino abbiamo lo stesso andamento piramidale anche se lì comunque è diverso e ne è diverso anche il significato però Raffaello per esempio riprende da Leonardo anche la concatenazione degli sguardi no vediamo come la Madonna e il San Giovannino e Gesù si guardano tra di loro quindi c'è questo filo e soprattutto come hai detto è vero che riprende da Leonardo la luce ma mentre in Leonardo la luce indaga analizza in maniera molto scientifica la natura ecco invece in Raffaello la luce serve proprio per rendere la dolcezza la grazia la tenerezza no degli sguardi e proprio l'amorevolezza di una scena che è molto intima molto amorevole molto familiare come se un po' accadesse no sotto i nostri occhi quindi è proprio in questo la grandezza di Raffaello cioè riprendere dai grandi ma per personalizzare per fare per fare di suo anzi sull'emotività giocava molto sull'empatia e sull'emozione ma un'emotività molto composta molto sobria molto aggraziata elegante no quindi proprio quella la poetica del bello in Raffaello è proprio questo pensiamo a Raffaello un po' come al pittore per eccellenza no colui che aveva un po' la grazia infusa della pittura in realtà Raffaello studiava moltissimo quindi lui ecco aveva appunto come ho accennato prima girato un po' tra l'Umbria, le Marche, Firenze e poi Roma e prendeva spunto, studiava cioè Raffaello oltre ad essere un pittore era anche un architetto, anche un poeta e aveva anche un concetto della bottega molto moderno cioè lui faceva lavorare gli apprendisti insomma i pittori con cui lui era in bottega quindi era insomma un personaggio che ha vissuto poco purtroppo però insomma ovviamente aveva una grandezza che ammiriamo tuttora e Michelangelo un po' compare nella sua influenza in questo dipinto perché compare un po' nella monumentalità delle figure Quale significa questa espressione? La monumentalità delle figure? Beh se pensiamo per esempio a Michelangelo i personaggi sembrano statuari, sono sempre muscolosi non so se, ma perché? Perché in realtà rappresentavano la forza interiore dell'uomo rinascimentale dell'intelletto dell'uomo e quindi questa grande energia, questa monumentalità di questi corpi volumetrici ben definiti nella loro massa, ecco questo sarà da spunto per Raffaello però non sono, ecco il corpo, il Raffaello qui non emana forza e energia ma emana presenza, emana grazia e anzi la dolcezza come detto prima, no, dei bambini viene ripresa da un'opera che infatti è stata trasmessa prima, la Madonna di Bruges scolpita da Michelangelo in cui Gesù Bambino viene tenuto proprio tra le ginocchia della Madonna Sembra che la regia l'abbia messa anche poco fa Sì, 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 qui c'è appunto il bambino che è tra le gambe insomma della Madonna e quindi c'è questo gesto insomma molto tenero Ecco perché appunto Raffaello riprende dai grandi ma nello stesso tempo emula e dà un significato molto carico, molto spirituale al dipinto In questo caso infatti vediamo la Madonna che guarda il Battista che porge un cardellino al Gesù Allora questo uccellino in realtà lega i due bambini, i due infanti nella loro vita certo da bambini ma soprattutto nella loro vita da adulti perché il cardellino con questa macchia rossa sul capo è proprio il simbolo ecco lo vediamo, è proprio il simbolo della passione di Cristo infatti diciamo si dice che durante la crucifissione un uccellino si sia posato sul corpo di Cristo e si sia sporcato il manto del sangue per questo insomma è un po' il simbolo della passione infatti la Madonna che guarda i bambini e si distrae per un momento dalle sacre scritture ecco è come se quelle scritture fossero un po' un presagio del destino Infatti c'è anche nello sguardo della Madonna un qualcosa di malinconico perché è stato un genio lì il genio di Raffaello a cogliere tutte queste emozioni e trasmetterle perché effettivamente c'è un qualcosa di malinconico che ricorda a grandi linee la malinconia nostalgica della Gioconda questo è un mio giudizio però sì sì beh ma appunto Raffaello conosceva molto bene i grandi appunto studiava molto quindi sapeva perfettamente cogliere e trasmettere ecco perché appunto diciamo è come se in questo caso il presagio della passione in realtà è trasmesso con grazia come una placida accettazione non con forza, con energia, con strazio ma grazia, eleganza tutto sommato appunto e accettazione una sorta di quiete interiore di consapevolezza di consapevolezza assolutamente di quello che doveva essere il destino del cristianesimo quindi inevitabilmente doveva essere così cara Andrea la simbologia, l'iconografia spieghiamo passo passo visto che sei archeologa e chi più di te può introdurci in questi argomenti soprattutto ci tengo a capire il tuo interesse visto che sei specializzata di più per le civiltà antiche cosa rivedi in queste opere del rinascimento di rimandi alle civiltà passate, le civiltà antiche anche un po' il classicismo se c'è qualcosa e poi andiamo passo dopo passo prima però mi sa che dobbiamo dare linea alla pubblicità adesso mi informo a quelle che sono le linee più importanti nel capire la simbologia e l'iconografia perché in questo dipinto ce ne sono veramente tante partendo appunto dal cardellino e dall'animale certo allora in realtà mi ricollego al discorso che stavate facendo sulla Madonna il modo in cui Maria accetta la morte del figlio è qualcosa che ha estremamente aiutato le donne in tutte le epoche fino a 50 anni fa fino a 50 anni fa le donne del paese in tutti i paesi anche soprattutto d'Abruzzo si riunivano a casa e dovevano ad esempio rivestire in silenzio la statua della Madonna si vegliava la Madonna perché una volta i bambini soprattutto appunto i bambini, i figli morivano molto presto e si empatizzava quel dolore che la Madonna aveva e che avevano anche tutte le mamme ma per quanto riguarda il significato degli animali beh è importantissimo diciamo che sono stati il primo veicolo di immaginazione che ha unito l'essere umano con il fantastico un esempio è l'uomo leone di Stadel in Germania e allora mi interrompo qui con questo esempio cara Andrea si andiamo in pubblicità e torniamo subito non ci lasciate mi raccomando perché il viaggio con Raffaello non finisce qui eccoci tornati dopo lo spazio pubblicitario torniamo in fretta e furia assolutamente su questa meravigliosa narrazione che riguarda non solo la bellezza della storia dell'arte del nostro patrimonio in questo caso uno dei maggiori esponenti del nostro rinascimento italiano ovvero Raffaello e parliamo di restauro e parliamo di iconografia e di simbologia in studio abbiamo la dottoressa Eleonora Vittorini Orge se in collegamento l'archeologa la dottoressa la nostra archeologa Andrea Di Giovanni eccoci qui che volevo rasserenare perché ho paura che la connessione non sia buona ma in realtà va tutto correttamente meno male siamo di buon auspicio insomma quindi eravamo rimasti sulla forte importanza della comunicazione nella storia dell'arte o comunque rappresentativa dalle civiltà antiche fino ad oggi su come veicolavano appunto questa comunicazione attraverso la simbologia ma riferendosi alla fauna quindi le allegoriche immagini in qualche modo si interconnettono e partono dalla notte dei tempi sì assolutamente bisogna immaginare che in effetti il primo impatto che l'uomo ha oltre ovviamente a se stesso l'ambiente circostante è soprattutto quello della fauna e quindi degli animali e appunto stavo citando l'uomo e leone di Stadel in Germania perché? perché è una statuetta molto importante è fatta di corno di mammut e in effetti è una delle prime rappresentazioni che fa vedere qualcosa di fantastico quindi un uomo con una testa di leone quindi una statuetta zoomorfa in realtà come concetto è importantissimo se ci pensiamo perché è una delle prime primissime rappresentazioni in cui l'uomo immagina immagina qualcosa che non esiste di solito quando gli archeologi non sanno effettivamente dire a cosa serve qualcosa si dice che è un oggetto di culto e noi ci scherziamo un sacco su questo aspetto ma in realtà molto probabilmente questa statuetta rappresentava un culto, una religione o una credenza ed è un momento siamo insomma in un'epoca abbastanza antica 32 mila anni fa in cui l'immaginazione dell'uomo lo fa diciamo entrare in una dimensione diversa in una dimensione della spiritualità questo avvenuto è un processo che è cominciato già qualche tempo prima 70 mila anni fa c'è stata quella che viene chiamata rivoluzione cognitiva e il percorso che le bestie gli animali faranno con con l'essere umano è molto importante e soprattutto prende sempre quella sfera del sacro e del fantastico una delle rappresentazioni più belle che forse abbiamo sia in Abruzzo che nelle Marche sono quelle che sono sui dischi corazza sui cardiofilax e diciamo che quelle sono state soprattutto per quelle abruzzesi sono state chiamate chimere ma in realtà molto probabilmente erano dei draghi ce ne sono nella Marsica ce n'è un esemplare ad Alfedena e sono delle delle rappresentazioni apotropaiche si trovano su i dischi corazza cioè su dei dischi che venivano messi per proteggere la parte più vulnerabile quindi tra il cuore ed il polmone eccolo qua lo vediamo e sono apotropaiche che cosa significa che erano era qualcosa di cui anche chi lo portava aveva paura o timore questo animale che possiamo vedere forse come un drago forse effettivamente come una chimera chi lo sa non lo sapremo mai effettivamente cos'era per loro e siccome incuteva timore a loro veniva messo sulla sull'armatura sul cardiofilax per incutere terrore ai nemici quindi diciamo la paura che va a proteggere chi indossa effettivamente questo questo meraviglioso oggetto in realtà il bestiario fantastico così si chiama si trova soprattutto in età orientalizzante quindi siamo tra ottavo e settimo secolo avanti Cristo in realtà in Italia si trova un po' ovunque soprattutto anche sui vasi c'è una bellissima coppa da narce una coppa di età orientalizzante se la la regia può farla vedere perché è veramente bellissima dove sul labbro della coppa si possono vedere dei piccoli animaletti in realtà non è l'unico eccola qua sono dei cavalli in realtà non è l'unico esemplare qui ci troviamo a narce quindi in quello che è il popolo italico dei falisci ce ne sono anche di esemplari a faleriveteres ma anche tra i piceni sono tantissime le coppe anche con con coperchio che hanno delle rappresentazioni di animali ovviamente in questo periodo un animale molto importante è il cavallo ma ci sono anche delle rappresentazioni di paperelle che uno potrebbe pensare ma che animale è e invece hanno ovviamente per loro dei significati che in realtà per noi saranno indecifrabili un'altra rappresentazione bellissima è quella che troviamo sulla fibula di Pizzoli ci troviamo più o meno nella stessa cronologia Pizzoli si trova vicino l'aquila quindi siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo e sulla fibula possiamo vedere una parata dei piccoli eccoli dei piccoli ompini che si stanno praticamente portando forse quella che è una preda un cervo e vengono affiancati inseguiti da dei cani in realtà diciamo che questa rappresentazione è molto semplificata quindi potrebbe lasciare qualche dubbio ma molto probabilmente rappresenta una caccia quindi una preda che è stata catturata viva infatti uno dei due personaggi antropomorfia un piccolo scudo e forse una mazza con sopra una testa di mazza e che vengono riportati al villaggio chi lo sa è una fibula bellissima quindi stiamo parlando di un oggetto in realtà di pochi centimetri che però si preoccupa di rappresentare quella che è la vita e il rapporto anche con con gli animali appunto che vivono a stretto contatto con con l'essere umano mi viene da pensare per quanto riguarda l'antica l'antico Egitto che forse anche lì c'è stato molto vabbè gli animali in quel caso erano divinità quindi in qualche modo era inevitabile la rappresentazione assolutamente partendo dalla maestosa piena di Giza con la sfinge che metà era faraone metà leone per poi continuare con Anubi e tutte le varie divinità lo stesso Ra che era metà falco e metà uomo quindi insomma beh per gli egiziani diciamo che gli animali hanno una grandissima importanza e grandissimo significato anche quelle divinità che rimangono maggiormente antropomorfe tipo Iside in realtà hanno un animale che le caratterizza per esempio per Iside la gazzella pensiamo che la dea dell'amore Hathor è la vacca la vacca sacra e ci sarà la stavo per dire regina ma non è esatto il faraone acepsut anche se è donna che si farà rappresentare con le orecchie da vacca proprio perché rappresentava appunto la divinità dell'amore Hathor dell'amore della procreazione ma praticamente le divinità egizie sono quasi tutte zoomorfe pensiamo a Bastet la dea gatta che è la dea del focolare Sobek il dio coccodrillo che è il dio del Nilo ogni animale ha un suo significato e questa cosa mandava anche un po' in crisi in effetti gli egiziani perché perché ad esempio loro avevano questa divinità che rappresentava il Nilo Sobek e una divinità che rappresentava anche lì la fertilità che era una divinità ippopotamo e ovviamente era un ippopotamo femmina perché rappresentava appunto la maternità era la dea che proteggeva durante il parto e per loro era un po' un problema perché se un ippopotamo femmina mangiava un coccodrillo maschio era un presagio nefasto se un ippopotamo maschio mangiava un coccodrillo femmina ovviamente non gli interessava perché non rappresentava nessun tipo di divinità quindi diciamo che la natura è sempre stata molto importante per gli antichi ma pensiamo anche alla ruspicina che era le pratiche divinatorie degli etruschi dove vanno a leggere non solo il volo degli uccelli ma anche dopo i sacrifici l'interiora degli animali e soprattutto il fegato gli animali sono rappresentazione del sacro sono rappresentazione della spiritualità e sono rappresentazione dell'immaginazione sicuramente legati alle prime forme di religione quindi diciamo che sono effettivamente importanti e ce ne saranno anche nel bestiario fantastico anche nel medioevo e fino ad arrivare appunto a Raffaello ci accompagneranno sempre e queste simbologie in qualche modo si ripropongono di secolo in secolo come in questo caso l'esempio che oggi la dottoressa ci ha voluto portare per rappresentare e raccontarci di Raffaello proprio con questo cardellino che in qualche modo rappresenta la passione di Gesù Cristo sì assolutamente ma ci saranno anche altri altri uccelli importanti nella storia mi viene in mente visto che parliamo sempre di Adriatico e di Marche Abruzzo appunto i Piceni che come si dice dal Versacrum sono partiti seguendo un picchio ogni animale e anche in questo caso soprattutto anche i volatili hanno dei significati importantissimi raccontano una storia e quella del cardellino è sicuramente una storia importantissima in un contesto come quello del Rinascimento dove appunto a me io non sono storica dell'arte ovviamente ma stupisce sempre questa rappresentazione sia per la fragilità anche del cardellino quindi la fragilità di questo Gesù rappresentato bambino ma che poi sarà fragile nel momento in cui ha crocifisso il rapporto che a Maria con suo figlio ci sono perché Gesù bambino mette il piede sopra il piede della madre e diciamo è un rapporto importantissimo appunto sia con i tre soggetti che con col cardellino col piccolo animale che appunto non rappresenta se stesso ma rappresenta un concetto nella storia dell'arte ci sono altri esempi che si possono fare similari a questo ad entrambi la domanda è aperta allora ma in realtà abbiamo per esempio Leonardo Da Vinci mi viene in mente quindi la dama con l'ermellino e anche lì l'ermellino per esempio è il simbolo della purezza in questo caso della donna rappresentata quindi sì come dice appunto la dottoressa Giovanni abbiamo degli esempi di animali che sono simbolo di un concetto soprattutto il grande Leonardo Da Vinci che era un grandissimo osservatore della natura assolutamente forse più della natura che delle dinamiche della società e degli esseri umani vero dottoressa Andrea? sì assolutamente ma pensiamo nel medioevo anche gli standardi come ad esempio animali esotici come il leone ma anche in epoca romana in epoca greca vengono presi e rappresentati in mosaici sono animali che in realtà magari loro effettivamente non hanno mai visto che però hanno e ricoprono dei grandi significati quindi diciamo che forse siamo noi che ci siamo un po' discostati dall'importanza che hanno gli altri abitanti della terra per noi ma in antico assolutamente non era così ma invece per quanto riguarda l'aspetto un po' fantasioso mi viene da pensare un cerbero mi viene da pensare insomma queste iconografie un po' mitologiche che attingono tantissimo la fantasia beh qui da Dante a Omero potremmo svegliare chiunque nel senso che il bestiario fantastico inteso come quelli quelle creature a metà tra il reale e l'irreale sono tantissime immaginate le sirene le sirene nascono come aquile no con il corpo di leone le ali d'aquile e la testa di donna successivamente saranno quelle che noi adesso immaginiamo con il corpo di metà di donna e metà di pesce ma sono veramente tantissimi quelle immaginate appunto la spinge quella dell'indovinello che è un animale che parla ed è un animale temibile se non si riusciva ad indovinare appunto la soluzione dell'indovinello che era quale animale la mattina cammina su quattro zampe a mezzogiorno su due e la sera su tre e la spinge ti mangiava quindi sono degli animali che rappresentano anche una giustizia divina immaginiamo Dante anche con le bestie che si trovano all'inferno sì e soprattutto questo cara dottoressa Eleonora torniamo invece sulla fase del restauro e torniamo alla nostra opera l'opera di Raffaello quindi ritorniamo sui passaggi che sono stati effettuati e quale tipo tipologie e soprattutto che cosa significa per il concetto di indagine scientifica perché mi viene da pensare appunto a qualcosa che sì allora appunto abbiamo detto che il Molo nel Cardellino si ritrova ad essere restaurata tra il 1500 e poi il 1800 quando si trova già agli uffizi a partire proprio dal dal 1700 il restauro quindi l'ultimo e il più importante quello che davvero è riuscito poi a prendere l'opera e a farne un restauro veramente meticoloso è stato il restauro che è iniziato nel 1999 e si è concluso poi nel 2008 quindi parliamo di quasi dieci anni di restauro ad opera dell'Opificio delle Perredure di Firenze quindi uno dei grandi centri di restauro uno dei più importanti centri di restauro italiani e il restauro è stato condotto ancora una volta da una donna quindi parliamo di una restauratrice Patrizia Ritano che però ovviamente ha avuto un team di esperti scientifici che hanno operato delle indagini diagnostiche prima e durante il restauro proprio come ausilio al restauro stesso ora cosa succede quando i restauratori si sono trovati di fronte a questo dipinto la prima cosa quindi che è stata fatta è proprio le indagini diagnostiche come mi dicevi le indagini allora le indagini fondamentalmente servono per per esempio capire quindi comprendere la materia pittorica che abbiamo davanti ma servono anche per esempio per comprendere la tecnica artistica ancora meglio per comprendere anche determinati prodotti e dinamiche del degrado e quindi le indagini in questo caso sono state molto utili possono essere ovviamente delle indagini invasive o non invasive quindi vuol dire con o senza prelievo di campioni in questo caso sono stati utilizzati dei campioni che già erano stati prelevati negli anni 80 per una mostra perché non volevano ovviamente diciamo invadere troppo ecco la materia dell'opera oltre a indagini appunto invasivo non invasive ovviamente il campione a quel punto può essere distrutto oppure rimanere intatto durante l'analisi indagini che ovviamente possono essere di tipo chimico o di tipo fisico quindi chimico se noi facciamo reagire il prelievo in questione con determinati reagenti oppure fisico se lavoriamo per esempio con delle onde di luce quindi con raggi ultravioletti raggi infrarossi raggi X possono essere analisi qualitative o quantitative quindi capire la quantità o la qualità di quello che andiamo a indagare diciamo che comunque sono delle indagini ecco non c'è un'indagine che ci dà la risposta a tutto quello che cerchiamo solitamente vengono utilizzate proprio insieme quindi in maniera complementare ci danno proprio la risposta complessa che noi vogliamo andare a trovare posso fare qualche passo indietro e chiederti una cosa un po' extra all'epoca il colore era fondamentale quindi si parla sempre di pigmenti che derivano dalla natura ma effettivamente come si arrivava ad avere questo composto che oggi è prettamente chimico ma prima non lo era certo è chiaro beh allora i pigmenti fondamentalmente quindi sono di tipo minerale quindi si partiva appunto da terre per esempio penso a un'ocra rossa alla terra verde quindi si partiva da appunto sostanze minerali si macinavano finemente a quel punto venivano come se appunto si poteva dipingere come dici tu giustamente noi siamo abituati a vedere i tubetti no del colore quindi fabbricati in maniera industriale che però replicano un processo naturale o perlomeno un processo di bottega queste polveri vengono messe su una superficie con una sostanza che deve legare queste particelle queste sostanze ovviamente potevano essere semplicemente l'uovo o potevano essere per esempio un olio un olio ossiccativo cosiddetto come per esempio un olio di lino o per esempio c'erano quindi le tempere grasse tempere magre a seconda che magari non so c'era come elegante il latte cioè tutto ciò che poteva legare le particelle tra di loro e ovviamente farle aderire su un supporto quindi poi a seconda della composizione magari si comparava anche la stesura cioè spiego meglio a seconda di questa tipologia di elegante che veniva utilizzato mi viene da immaginare insomma che sugli affreschi Leonardo provò con l'uovo con l'albume se non sbaglio allora sì invece per altri a seconda della porosità della superficie si lavorava con altre tipologie di colore allora chiaramente dipende dal supporto no allora nell'affresco noi lavoriamo su un supporto che appunto ancora non è asciutto quindi andare con un colore stemperato semplicemente cioè pigmento no polvere stemperato semplicemente con acqua ingloba il colore dentro la materia proprio perché mentre si asciuga ingloba in se le particelle quindi non c'è bisogno di niente ma se noi siamo su un supporto asciutto anche sul muro noi possiamo utilizzare anche questi leganti che abbiamo appena detto però chiaramente non è un sistema che può durare sul muro perché non si parla di coesione si parla di adesione nell'affresco abbiamo la coesione perché le particelle entrano a far parte in tutta una esatto mentre l'adesione quindi facciamo aderire il colore a un supporto su una tavola noi non usiamo dei colori con l'acqua perché potremmo andare solo a bagnare del legno e comunque non avrebbe senso il colore con l'acqua è un colore molto debole ha bisogno di qualcosa che lo lega nell'affresco c'è questo processo ma in tutt'altro supporto dobbiamo utilizzare qualcosa che possa appunto fare anche le colle animali venivano utilizzate come legante per esempio la colla di coniglio quindi qualcosa per esempio non so se hai fatto caso adesso facciamo una quando fai bollire il latte nel pentolino o anche l'uovo hai fatto caso che in realtà è molto difficile da togliere quando vai a lavare sono dei leganti molto forti adesso facciamo questa digressione culinaria però è così che all'epoca veniva utilizzata assolutamente a livello professionale assolutamente quindi io mi immagino lì che comunque sia Rassello Michelangelo Leonardo si trovavano ad essere dei piccoli chimici tecnicamente prima di iniziare un'opera certo in realtà per esempio chi ha scritto dei trattati per la pittura per esempio non so c'è chi dice che c'è da usare del latte di capra oppure un uovo fresco di gallina quindi ci sono ovviamente avevano tutti i loro segreti insomma di bottega però appunto sostanze naturali che potessero legare del colore su un supporto come la tela la tavola ovviamente però è chiaro ogni supporto aveva il legante preferito quindi ritornando su quell'analisi che stavi facendo sull'analisi quelle oggettive che riguardano appunto la diagnostica vanno a capire tutta la storia tutto l'accumulo tutta la stratificazione di un'opera è fondamentale anche l'esamino dei materiali utilizzati in questo caso Raffaello cosa aveva utilizzato? Raffaello l'aveva utilizzato un olio questo si è riuscito a capire tramite ovviamente le analisi quindi loro hanno fatto ovviamente delle indagini prima del restauro per capire appunto come hai detto la tecnica artistica e per capire meglio anche lo stato di conservazione Raffaello per quanto riguarda la tecnica artistica aveva utilizzato l'olio però in alcune campiture di colore probabilmente aveva utilizzato altri leganti quindi si parla diciamo più correttamente di tempera grassa anzi ancora meglio possiamo dire perché questo è stato visto che il supporto di questo dipinto è costituito da due tavole in pioppo sembravano tre ma solo perché erano molto frantumate due tavole in pioppo sopra c'era questo strato preparatorio insomma inciso e colla poi c'era questo disegno perché Raffaello disegnava era molto meticoloso nel disegno fatto a spolvero non so se lo spolvero allora si disegna su un cartone lungo le linee si fanno dei fori e poi si riporta il disegno sul supporto in questo caso con della polvere di pigmento quindi viene riportato il linee che poi viene poi ripreso con delle linee a mano libera ecco adesso per esempio spezzo una lancia a favore del telefilm che è andato in onda sul Re 1 sulla vita di Leonardo da Vinci che è stato anche un po' criticato perché era abbastanza lavorato nell'interpretazione un po' romanzato di fantasia però devo dire la verità su alcuni passaggi è stato bello perché appunto si facevano vedere esattamente questi momenti cioè la preparazione del disegno il progetto del disegno e nel caso di Leonardo per la maggior parte dei lavori che si trattavano appunto di affreschi la preparazione della stesura dell'affresco in sé per sé sulla parete quindi quello che stai praticamente menzionando tu care Eleonora sì sì assolutamente perché il disegno preparatorio erano ovviamente dei dipinti molto studiati quindi il disegno preparatorio sì veniva fatto con questo spolvero in questo caso ma Raffaello e questo lo hanno visto dalle indagini addirittura ripassava alcune zone sono ripassate a pennello altre proprio c'erano dei tratti fatti per esempio sul petto del bambino ma si può vedere come Raffaello abbia avuto anche tra virgolette dei pentimenti cioè lo scollo della Madonna ad esempio lui l'aveva disegnato arrotondato invece poi è stato dipinto squadrato per esempio oppure non so si è riuscita a risalire al tratto originale assolutamente sì perché c'è una tecnica che lavora con i raggi infrarossi si chiama riflettografia raggi infrarossi che dà la capacità proprio di andare a vedere quello che è il disegno preparatorio sottostante la pellicola pittorica cioè diciamo i raggi infrarossi riescono ad andare sotto la pellicola pittorica e a farci vedere lo strato preparatorio in cui c'è proprio il disegno e loro hanno visto che nei tratti c'erano stati alcuni pentimenti appunto lo scollo diverso alcune pieghe dalla cintura in su le aveva disegnate in maniera differente l'orecchio del San Giovannino è stato dipinto più in alto rispetto a come l'aveva disegnato la roccia per esempio era più in alto insomma ci sono si può appunto le indagini sono servite molto per capire la tecnica in questo caso come si definisce un'opera dove ci sono stati cambiamenti originali c'è una terminologia tecnica in realtà i pentimenti si trovano quasi in tutte le opere in tantissime opere nel senso che è vero si fanno cioè si fa il disegno preparatorio ma poi viene aggiustato dall'artista al momento dell'esecuzione quindi è molto molto probabile sempre molto diffuso insomma vedere dei pentimenti nel disegno altri esempi che ti vengono in mente per per conoscenza anche di massa popolare che ha la portata di tutti sì in realtà beh i pentimenti erano appunto si trovavano molto in questi pittori appunto rinascimentali nei pittori in cui il disegno aveva era una fase fondamentale per la pittura già quando parliamo di pittori settecenteschi in cui magari il disegno non c'era e si andava direttamente con la pittura allora non c'era magari questo non c'era diciamo questa evidenza questo comprometterebbe anche il mercato nero dei falsari cioè che non so che analisi si possa fare a questo punto perché io penso che con la tecnologia e l'avanzare appunto della scienza che vi aiuta tantissimo tutto questo è compromesso oggi giorno beh in realtà diciamo i pentimenti del disegno magari possono far parte diciamo della costruzione dell'opera in sé a volte è successo una cosa molto particolare che per esempio si trovasse un altro soggetto disegnato sotto magari era una tela di recupero e quindi magari c'era tutt'altro soggetto disegnato insieme a quello in questione quindi magari a volte potrebbe anche succedere che può anche aumentare di valore ora io non sono non mi intendo appunto di compravendita di questo tipo però sono molto particolari a volte insomma anche quando per esempio penso a quando si strappano per esempio degli affreschi rimane per esempio sotto l'impronta insomma del disegno preparatorio quindi è stata addirittura fatta proprio una mostra dei disegni insomma preparatori sotto alla pellicola pittoria quindi diciamo c'è un po' un mondo per concludere su questa meravigliosa opera diciamo le riflessioni che ti vengono in mente dottoressa è tutto quello che è possibile poter vedere soprattutto adesso di buon ospicio perché abbiamo saputo che finalmente i musei saranno aperti si potrà andare e tornare nei musei quindi dove possiamo vedere l'opera come la possiamo ammirare e come poter apprezzare Raffaello nella sua totalità certo beh l'opera ovviamente poi in seguito alle indagini che abbiamo detto ovviamente è stata completamente restaurata quindi adesso andare agli uffizi quando appunto sarà possibile si spera a breve si può vedere appunto l'opera nella sua interezza un'opera che in realtà i colori che vediamo per la maggior parte sono un po' i colori diciamo originali di Raffaello perché i ritocchi che sono stati fatti nei precedenti restauri paradossalmente hanno protetto il colore sottostante quindi il colore che noi vediamo col colore brillante in realtà era il colore di Raffaello sono il restauro che è stato fatto è appunto è stato molto rispettoso per la materia stessa per cui qualsiasi ritocco pittorico che è stato fatto per poter andare a integrare le lacune le mancanze è un ritocco che appunto magari possiamo vederlo quando andiamo molto vicino al quadro ma da lontano possiamo apprezzare la bellezza di insomma Raffaello in maniera assolutamente indistinta come se forse questo grave danno non sia mai successo effettivamente l'emozione tutto quello che concerne arriva dritto al cuore di questo grande pittore rappresentante della nostra arte italiana e non ci fermiamo qui perché poi dopo nella seconda parte di Purparler andremo a approfondire tutte quelle tra virgolette curiosità e nozioni soprattutto situazioni che si sono create soprattutto nella compagine marchigiana per nei secoli successivi sulla figura di Raffaello che mi piacerebbe far vedere anche ricordare dove poi Raffaello è stato riprodotto ve lo ricordate sì? sì? ah sì regia ce l'abbiamo allora in realtà vi volevo far vedere quest'opera che è un regalo che faccio a Andrea Di Giovanni e la nostra Eleonora Vittorini Orgeas questa è un'opera di Giuseppe Veneziano è una reinterpretazione smontando tutti i crismi perché Raffaello era stato appunto raffigurato sulla banconota da 500 mila lire vero quindi adesso che siamo entrati nell'era delle criptovalute a quanto pare il grandissimo Giuseppe Veneziano un nostro meraviglioso artista che scordina scompaggina smonta ma in qualche modo racconta una verità oggettiva che sembra pure interpretazione ma non lo è anche un po' bersagliato come artista perché è molto molto arguto e acuto nelle sue opere però mi fa sorridere insomma questa contrapposizione questo questo sovvertire no? i canoni e le situazioni come per sottolineare appunto il progresso non so se abbiamo ancora in collegamento la nostra Andrea di Giuseppe di Giovanni pardon ho cambiato il cognome chiedo veglia non lo farò mai più non sento l'audio purtroppo regia mi sentite? adesso sì tornata sì 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 eri stata silenziata per un attimo ci salutiamo con magari un accenno sulle prossime curiosità anche perché pur parler finirà a metà maggio quindi dobbiamo assolutamente rincontrarci per chiudere in bellezza e chissà se ritrovarci poi quest'estate cara archeologa va benissimo come volete io ci sono sempre basta che mi fai un fischio arrivo magari da qualche sito quante sorprese sono in servo per noi in servo per noi grazie grazie Andrea Di Giovanni grazie a dottoressa Elena Vittorini Orgeas e noi torniamo subito per un collegamento direttamente dall'Inghilterra e parleremo di quante meravigliose appunto la letteratura e la capacità di scrittura soprattutto per una giovane ragazza intraprendente che non ha assolutamente nessun tipo di confine ci racconterà la sua meravigliosa storia in diretta all'Inghilterra e torneremo con il nostro carissimo affezionatissimo dottor Marco Corradi per ritornare appunto su tutte le curiosità prima poco fa anticipate su il grande Raffaello quindi non ci abbandonate ritorniamo subito pubblicità eccoci siamo tornati veloci veloci si parte si va in Inghilterra e in collegamento dovremmo avere la nostra prossima ospite eccola qui in tutto il suo splendore una marchigiana doc però in Inghilterra diamo il benvenuto a Ioana Romandini grazie grazie Emanuela l'ho detto bene il tuo nome? Juana Juana perfetto che ha origini non ha origini quindi spagnole se non sbaglio si solo il nome però solo il nome cara dove sei esattamente? Manchester Nord Inghilterra ti sei completamente trasferita a Manchester in che anno? racconta un po' della tua vita correva l'anno 2009 2009 a marzo quindi sono 12 anni che sono qua partita da Londra prima qualche mese non ho trovato lavoro ho mandato il curriculum a Manchester un'azienda mi ha assunta e niente sono finita qua su ne approfitto subito perché insomma il modello inglese nonostante quello che sia successo nella prima parte di lockdown poi dopo la fine è risultato essere un modello funzionante contro la pandemia come state vivendo adesso questa fase cara Ioana bene hanno riaperto qualcosina la settimana scorsa quindi già riusciamo con tanto di 12-13 gradi ma noi siamo abituati riusciamo ad avere un un drink una pinta qualcosa insomma all'aperto a mangiare all'aperto a trovarci con altre persone quindi si vede luce alla fine del tunnel come si suol dire cara Ioana raccontaci la tua storia perché tu sei una scrittrice oggi però sei appunto partita per l'Inghilterra per realizzare il tuo sogno di indipendenza per crescere da studentessa hai cercato in qualche modo il tuo destino fuori dall'Italia ma poi dopo all'improvviso è arrivato anche questo successo raccontaci bene la tua storia perché è una storia molto particolare Sì diciamo che avevo bisogno arrivata alla fine dell'università ho aspettato tre anni di trovare un lavoro la situazione era un po' difficile pur trovandomi a Bologna quindi in un in un ambiente economico un po' più florido e niente alla fine ho deciso di partire per mettermi alla prova per sperimentare una realtà diversa e a quel punto sono emigrate in Inghilterra lasciando i miei con queste parole famose del tipo se trovo lavoro fra sei mesi sono a casa se non trovo lavoro prima di Natale perché era novembre prima di Natale sono a casa e mia madre ancora oggi ogni tanto mi ricorda questa famosa frase che avevo recitato prima di salire sull'aereo Ti occupi anche di programmazione neurolinguistica ho letto nella tua biografia come procede questo avanzamento di carriera perché diciamo che tu hai dei sogni in particolar modo di affrontare la tua vita professionale con uno sbocco ben preciso sì diciamo che la carriera mi ha portato da una parte completamente diversa da una parte completamente opposta rispetto ai miei studi ai miei interessi però sto cercando di tornare sulla retta via come si suol dire e sto cercando sto finendo in realtà di prendere il diploma per PNL e per life coaching e poi vorrei specializzarmi anche in terapia soprattutto relativo alle giovani donne alla carriera e alla come si dice all'autostima ecco tu sei un esempio molto forte di questi punti deboli purtroppo in Italia no? parliamo ancora di violenza sulle donne di genere non ci stanchiamo mai di capire quali sono le analisi dove in qualche modo si innescano questi meccanismi di blocco la donna e il lavoro tu da giovane sei proprio l'esempio che bisogna seguire in qualche modo che va a scordinare tutti questi concetti tutte queste verità stai affrontando la tua maturità la tua crescita non solo affermandoti come donna professionalmente parlando in carriera ma soprattutto anche per la scrittura perché come ho detto poco fa sei una scrittrice e soprattutto senza paura e senza remore no assolutamente bisogna diciamo nel momento in cui sei terrorizzato o terrorizzata a fare quel passo significa che è il passo che devi compiere perché nel momento in cui ho prenotato quel biglietto quasi 13 anni fa io ero terrorizzata e mentre salivo sull'aereo ero terrorizzata però una volta scesa dall'aereo a Londra ho cominciato un passo dietro l'altro a percorrere quella che è diventata la mia strada quindi il consiglio che mi sento di dare a tutti che do a tutti a chi chiede è di trovare il coraggio di uscire dalla zona di comfort di fare quel passo arrivano assolutamente i risultati una volta che si ha il coraggio di affrontare se stessi non gli altri ma se stessi guardarsi dentro e da qui che hai preso spunto per scrivere questa opera che sta avendo un enorme successo e che sta affrontando anche una campagna di crowdfunding ovvero il grido dei narcisi l'idea mi è venuta tanti anni fa ma l'ho portata a termine negli ultimi due tre anni e nel momento in cui ho terminato il manoscritto mi sono resa conto che c'erano dei temi di fondo molto attuali poco discussi non perché sono poco conosciuti ma perché sono dei temi sensibili e che quindi dovevo fare qualcosa per far vedere la luce a questo libro i temi principali infatti pur essendo il romanzo un romanzo abbastanza positivo ruota intorno a temi quali la depressione il lutto i conflitti familiari i segreti familiari che poi portano dei risvolti inaspettati e molto spesso negativi ma anche dall'altra parte come questi elementi negativi nella vita di una persona dei personaggi del protagonista possono alla fine risultare in qualcosa di positivo quindi un messaggio di speranza quasi alla chiusura del romanzo c'è un protagonista giusto? sì un protagonista che ha perso il fratello quando era ancora giovane il fratello praticamente si è suicidato ed è un fatto che il protagonista del romanzo non ha mai accettato né si è mai potuto spiegare perché come spesso succede anche il fratello maggiore ha compiuto questo gesto senza che nessuno sapesse perché diciamo nero su bianco non c'erano motivi per cui questo ragazzo dovesse togliersi la vita poi man mano che la trama va avanti man mano che scaviamo nel passato di questa famiglia che vediamo le persone coinvolte nella crescita di questi due bambini e poi di questi due ragazzini ci rendiamo conto che non sempre quello che vediamo corrisponde alla verità e che spesso le persone quando vogliono riescono a mascherare talmente bene il loro stato d'animo da risultare addirittura serene e felici quando invece stanno attraversando l'inferno quindi tu ti sei ispirata a una storia realmente caduta accaduta? sì e no ci sono molti elementi nel romanzo che vengono da magari delle notizie che ho letto dei fatti che ho testimoniato di cui sono stata più o meno testimoni in diretta e c'è anche molto di autobiografico perché comunque in passato ho sofferto anch'io di depressione ne sono venuta fuori con tanto aiuto con tanta pazienza e tanta costanza ed è per questo che mi sento di parlarne liberamente perché fin tanto che continuiamo a tenere questo tappo a tenere la bocca chiusa su questo tema perché ne siamo spaventati o perché è un tema sensibile di cui non si parla le persone continueranno a stare male e le tragedie continueranno a succedere oltre a promuovere questo tuo romanzo ho voluto appunto invitarti qui in trasmissione per sottolineare questo passaggio molto delicato si parla tanto di depressione si assiste ancora ad oggi a questo scenario terrificante che è conseguenza di uno stato di malessere interiore psicologico in qualche modo dobbiamo scardinare dobbiamo cercare di capire dove si creano queste stanze buie all'interno del nostro io del nostro inconscio soprattutto in questa fase delicata della pandemia dove questi numeri stanno aumentando cosa ti senti di dire cara Ioana a tutti coloro che in qualche modo magari hanno perso il lavoro sono giovani come te non vedono un futuro perché la non progettualità a lungo andare fa male soprattutto per i ventenni che hanno un carico emozionale forte che hanno un'energia vulcanica che vogliono scoprire il mondo vogliono prendere la vita a morsi cosa ti senti di dire a coloro che in qualche modo hanno perso un po' questo andamento causato da tante negatività che ci circondano perché ecco non sapere dove andare è un gravissimo problema però bisogna reagire lo stesso intanto direi che sono dei vincitori perché nonostante la situazione stanno ancora come si dice con la testa fuori dall'acqua stanno continuando a nuotare a tenersi a galla quindi già questo è prova di forza per il resto per chi si trova in quel posto in fondo al pozzo come lo chiamiamo in tanti il primo suggerimento che mi sento di dare è di parlarne perché se ci guardiamo intorno c'è sempre qualcuno che ci vuole bene che è disposto ad ascoltarci e anche se è difficile di nuovo tornando al fare il passo fuori dalla propria zona di comodo fare quel passo per aprirsi perché aprendosi e parlandone già condividendo queste sensazioni con qualcuno che ne è fuori alleggerisce di tanto e magari questa persona è in grado di dare delle idee o comunque un supporto diverso perché gestire da soli certe sensazioni e trovarsi da soli in quel posto è un'esperienza che veramente non augura a nessuno ed è impossibile uscirne senza aiuto assolutamente assolutamente d'accordo l'anno scorso appunto il grido di Narcisi è arrivato in semifinale al torneo letterario lo scrittore su oltre 5.000 manoscritti ne sono stati selezionati 300 e lo stesso manoscritto che al momento sta attraversando questa campagna di grand funding con la casa milanese book a book se entro inizio giugno prevedono 200 copie previste a dicembre esce nelle librerie a quanto pare quindi possiamo in qualche modo sostenerti e darci un consiglio per poter leggere questo romanzo che comunque comunica tanto se interessa la tematica se vi piace leggere mi sarebbe di immenso aiuto se poteste comprarne una copia perché il crowdfunding è proprio questo comprare qualcosa prima che sia effettivamente disponibile dando fiducia all'autore dando fiducia al testo in sé quindi siamo a un punto buonissimo manca veramente poco e quindi niente il passaparola è la mia come si dice la mia alleata il mio alleato noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo mi raccomando grazie sosteniamo questa scrittrice emergente assolutamente cerchiamo di prendere esempio perché insomma sei giovanissima ma allo stesso tempo in quegli occhi dolci trasmetti una grande forza complimenti per quello che hai fatto per il modello che rappresenti grazie sono sicura che insomma nella vita accadrà qualcosa di meraviglioso che già sta accadendo già lo stai facendo quindi sarai un punto di riferimento per molti ragazzi della tua età e non solo un augurio che ti senti di fare al pubblico di Purparlè e un augurio che fai a te stessa tutti e due combinati ne usciremo e torneremo alla vita di prima e sarà ancora più bello grazie a Ioana Romandini grazie infinite in bocca al lupo grazie ciao un saluto da tutto lo staff di Purparlè dal pubblico di Purparlè e diamo il benvenuto qui in studio e ben ritrovato e ritornato un altro editore si parla sempre di libri FAS Edizioni e nella persona appunto di Marco Corradi grazie ben trovata buonasera buonasera a te caro Marco un successo quello di di FAS editori che ti contraddistingue che ti sta seguendo tanti sacrifici dieci anni di tanto lavoro e devo dire che stai avendo anche tu le tue soddisfazioni le tue più grandi soddisfazioni beh sì è un momento particolare di rinnovamento anche abbastanza profondo però ecco ci prepariamo post pandemia con tanti progetti e tante belle iniziative di volte ecco alla valorizzazione del territorio al suo studio e alla crescita perché poi fondamentalmente studiare il territorio è propedeutico a qualsiasi tipo di crescita assolutamente sosteniamo la lettura sempre di più noi non facciamo altro che ripeterlo perché è fondamentale qualsiasi libro noi abbiamo dei punti di riferimento come il tuo qui nel territorio quindi cerchiamo di sostenere anche le aziende del nostro territorio in qualche modo ma soprattutto la lettura oltre che la scrittura la lettura cerchiamo di equiparare c'era questa questa statistica di quest'estate da parte dell'Istat che diceva che gli italiani sono un popolo di scrittori a quanto pare facciamo che diventiamo entrambi scrittori e lettori e lettori certo torniamo sulle fantastiche orme e sulla scia magica di un grande artista quello di Raffaello della figura di Raffaello che abbiamo visto poco fa con la dottoressa Eleonora Vittorini e con Andrea Di Giovanni e Marco Borradi ci porterà invece in un'altrettanta realtà fatta non solo di nozioni di curiosità ma soprattutto di storia e di ricerca quale insomma tu compi ogni giorno quotidianamente avanti seguendo quelle che sono poi anche le ricerche di archivio e tutto quello che viene riportato su altri manoscritti e altri saggi insomma che solitamente non è comune a tutti quello che fai tu diciamo che non è proprio usuale no corre una buona dose anche di follia se vogliamo per dedicarsi beh Raffaello se posso ricollegarmi a quanto hai appena detto poco fa diciamo ci offre l'occasione per fare un po' un'operazione nostalgia perché è stato l'ultimo grande italiano che è stato riprodotto su una banconota con la lira con le 500 mila lire ecco che hanno circolato pochissimo ma che ci ha riportato alla memoria la memoria di tutti quanti noi italiani questo personaggio eccezionale che è vissuto soltanto 37 anni e che ha lasciato un segno veramente profondo sia nella pittura che nell'architettura e per quanto è diciamo nel mio intento questa sera è quella appunto di raccontare un po' che cosa ha vissuto Raffaello in questi 37 anni sono stati 37 anni densi di eventi di scoperte e di curiosità veramente particolari partiamo da una certezza sicuramente da ragazzino ha sofferto tantissimo il freddo perché nella nel 1497 ci fu una grossa un grosso inverno che durò per tutto giugno addirittura nevicò il 4 di giugno e quindi tutta Italia venne stretta in una morsa di gelo allucinante e appunto ecco la neve a giugno è una cosa abbastanza insolita abbastanza rara ma oltre a questo diciamo fu un periodo veramente interessante pieno di scoperte ad esempio una per tutta per tutte la scoperta delle Americhe noi di solito pensiamo con la scoperta dell'America magari facciamo riferimento soltanto all'America come Stati Uniti ma in realtà in quegli anni lì si aprirono nuove rotte per le Indie ci fu Amerigo Vespucci che approdò nella laguna di Maracaibo che appunto denominò poi Nuova Venezia e da qui Venezuela e furono momenti veramente interessanti voi immaginate che questo ragazzino che comunque era stato introdotto giovanissimo nella corte urbinate era al corrente poiché la corte urbinate era una corte a contatto con molti studiosi con molti ricercatori molto presente comunque nello scarchiere diciamo delle piccole nazioni che componevano l'Italia dell'epoca l'Europa dell'epoca era molto attiva quindi da questo punto di vista e quindi aveva un numero di notizie anche molto diciamo fresche non è che magari al popolo determinate scoperte arrivava molto ma molto più tardi ma a chi aveva una corte importante come quelle urbinate di quel periodo le notizie le aveva di prima mano e anche con una certa celerità e questo ragazzino questi stimoli questi input queste notizie le aveva quasi in tempo reale ovviamente con i tempi di quel periodo ma oggi potremmo definirlo così quasi in tempo reale quindi immaginiamo quanti stimoli e quante curiosità aveva suscitato questo mondo che praticamente stava cambiando perché si scopre che il mondo non era soltanto quello che si conosceva ma ce n'era una buona porzione ancora da scoprire e che andava indagata ad esempio è stato ha vissuto sicuramente due momenti abbastanza tremendi perché l'Italia venne colpita da due forti scosse di terremoto una che addirittura provocò uno tsunami nel Mediterraneo una cosa abbastanza rara perlomeno anche a quanto ci dicono oggi gli studiosi che è abbastanza improbabile che possa esserci uno tsunami nel Mediterraneo ebbene ci furono in quei 30 anni due scosse di terremoto una nella parte nord che coinvolse Trento tutta la parte diciamo anche di parte della Jugoslavia e poi un'altra seconda scossa qualche anno dopo nel 1517 che coinvolse invece l'Irpinia quindi ecco zone purtroppo note anche nel periodo contemporaneo per avere questa caratteristica quindi questa propensione a avere scosse di terremoto ecco un periodo particolare un periodo veramente interessante a livello di calamità di cose strane che sono accadute visto che stiamo parlando di nevicate di terremoti Crema venne colpita da una cosa veramente insolita e soprattutto immaginiamo il clima che poteva creare questo avvenimento perché piombò su Crema un enorme asteroide che fece insomma un bel po' di clamore per l'opinione pubblica dell'epoca e tra le cose più affascinanti stiamo seguendo adesso delle immagini interessanti che ci manda in onda la regia stiamo appunto vedendo nella scuola di Atene un Ptolemeo che è raffigurato con in mano un mappamondo anche questa era una novità che per primo forse Raffaello ha rappresentato in una in una pittura perché il mappamondo sembrerebbe essere stato disegnato qualche anno prima rispetto a quello alla fresco di Raffaello e ecco qua questo sembrerebbe essere il primo mappamondo dove vediamo che insomma la terra emersa è raffigurata in maniera assolutamente irriconoscibile per quelle che sono le nostre conoscenze le nostre conoscenze l'America è appena bozzata c'è qualche costa che non si capisce bene dove finisce perché ovviamente avevano indagato solo la parte diciamo più a est della terra emersa e è interessante questa sarebbe la posizione corretta nord-sud-ovest-est questa sarebbe la posizione corretta quindi dovremmo immaginarci che quello sarebbe l'Europa si occorre una fantasia abbastanza abbastanza anche perché l'Europa è enorme perché si riteneva comunque ecco la parte principale della terra delle terre emerse poi cosa invece che si scopre che è che è l'esatto contrario addirittura sono presenti delle isole che nessuno conoscevano nessuno che nessuno conosceva nessuno c'era mai stato fisicamente ma per tradizione secondo alcune leggende erano cose che esistevano quindi sono rappresentate pur nessun senza avere importanza geografica o storica senza avere alcuna traccia della loro esistenza quindi ecco e la cosa interessante è che è stato realizzato unendo la loro capacità di proiettarsi nella non conoscenza giustificati dai mezzi ovviamente stiamo parlando 2400 la paragono in qualche modo la nostra ignoranza della conoscenza dell'universo in qualche modo beh sì sicuramente un po' anche noi oggi quando ovviamente non siamo in grado di raggiungere dei luoghi così lontani per le nostre tecnologie facciamo delle ipotesi e così un tempo si faceva delle ipotesi consideriamo che Cristoforo Colombo era uno estremamente convinto che avesse raggiunto l'India qualche anno più tardi però fu Amerigo Vespucci che disse no guardate e provò che quella era una terra nuova un nuovo continente non era l'India che tanto si desiderava raggiungere con una nuova rotta tant'è che America viene e poi ha il nome che deriva appunto da Amerigo Vespucci e non da Cristoforo Colombo ma ritorniamo al mappamondo e al nostro Raffaello sì beh quel mappamondo lì che abbiamo visto è interessante perché sembrerebbe che sia il primo realizzato risale al 1504 è simpatica la cosa perché per fare la sfera utilizzarono due gusci di uova di struzzo che comunque avevano già una bella conformazione sferica si è messi assieme e quindi realizzarono subito la forma la forma sferica dove è conservato questo reperto questa opera d'arte non si sa perché è stata venduta all'asta nel 2012 è stata venduta all'asta e l'acquirente ha voluto rimanere nell'anonimato quindi per il valore di? il valore non sinceramente il valore finale non sono riuscito a trovarlo ma immaginiamo anche perché poi su questa sulla realizzazione sull'autore di questo mappamondo c'è un po' una sorta di leggenda perché non esiste una documentazione che comprovi chi ha confezionato questo manufatto ma ci sono delle ipotesi che vanno da Leonardo a poi altri studiosi cartografi dell'epoca presumibilmente tedeschi che su questo erano molto molto ferrati in quel periodo lì però ecco quando poi c'è la presunzione che sia stato anche fatto da un artista da uno scienziato come Leonardo da Vinci tutto diventa affascinante e appetibile per chi può permettersi di rispondere a queste aste così diciamo così importanti e onerose dal punto di vista economico e se consideriamo che questo mappamondo che è il primo è datato nel 1504 e la scuola ad Atene è stata realizzata a partire dal 1507 ci rendiamo conto come questo ragazzo questo pittore era veramente a conoscenza di tutte le novità e di tutte le anche le scoperte che stavano avvenendo proprio in quegli anni lì quella fresco che abbiamo visto poco prima del mappamondo cosa rappresenta? allora quella fresco è la scuola di Atene è una delle stanze che sono state volute che sono volute da Papa Giulio II della Rovere e questo è un altro affresco ma ne parliamo tra un pochino perché c'è un altro aspetto molto interessante che riguarda Raffaello e lì un po' Raffaello rappresenta tutti i personaggi sulla scuola di Atene più importanti del pensiero umano è una delle opere più importanti sì è una delle opere più affascinanti più importanti dove lui si diverte a fare un po' un collage perché questi personaggi che lui cita lasciando poi dei segni come dire importanti per identificare chi sono quindi ecco c'è Pitagora c'è appunto Tolomeo però si diverte a mettere i volti di personaggi che lui magari conosceva quindi diciamo ecco i personaggi rappresentano altri personaggi importanti magari contemporanei di Raffaello quindi abbiamo Leonardo abbiamo Raffaello stesso è uno degli affreschi più belli più affascinanti e interessanti che il Vaticano conserva tornando all'altro affresco e così ci colleghiamo subito ad un'altra ad un altro diciamo aspetto di Raffaello ecco questo è interessante perché ci offre l'occasione di parlare di un'altra curiosità di Raffaello vedete che in basso sono genuflessi sotto al pontefice che sta dicendo messa in questo caso dei militari che sembra che hanno una gonna in basso a destra non so se forse a sinistra per i telespettatori credo e quello lì è l'affresco che poi dopo è stato ispiratore per la realizzazione delle divise della Guardia Svizzera sulla Guardia Svizzera c'è un po' di confusione sulla realizzazione della divisa perché alcuni sostengono che sia stata disegnata da Michelangelo altri sostengono che invece sia stata disegnata da Raffaello ecco il particolare che bello ecco sembra una gonna invece stando genuflessi sono i pantaloni che hanno quello sbuffo piuttosto importante come pure le mani che hanno questo sbuffo piuttosto ricco che è proprio caratteristico della Guardia Svizzera ma dicevo ecco c'è questa doppia ipotesi chi sostiene che sia un disegno Michelangelesco che invece un disegno realizzato da Raffaello in realtà probabilmente quando venne ridisegnata la divisa della Guardia Svizzera nel 1914 ci si ispirò a questo affresco specifico e quindi a dei disegni a quest'opera che aveva realizzato Raffaello per poi realizzare l'attuale eccola qui l'attuale divisa della Guardia Svizzera quindi più che l'autore della divisa è stato l'ispiratore forse è più corretto dire così ecco perché per certo quando venne ridisegnata la divisa nel 1914 il comandante delle Guardie Svizzere dell'epoca dichiarò che era stato preso spunto dall'affresco che abbiamo appena visto e questo è un altro è un altro aspetto un altro lascito che in qualche maniera ci arriva da Raffaello abbiamo visto degli schizzi poco fa anche di disegni che raffiguravano forse l'evoluzione della divisa sì queste sono le evoluzioni che che ci raccontano un po' ecco questa è una questa è la Guardia Svizzera queste sono le divise di metà ottocento vediamo che ovviamente un po' come sempre accade la moda dell'epoca in qualche maniera si insinua anche nella tradizione anche se per la Guardia Svizzera alla fine diciamo che il disegno il costume e la forma rimane pressoché uguale ecco al di là del basco del cappello che poi viene modificato in un semplice basco e nell'elmetto quello classico che è spagnoleggiante e che riversa e che è ancora l'arma araldica dei della rovere perché Giulio II il fondatore era membro di questa importante famiglia per il resto vediamo come rimane nella tradizione appunto questi pantaloni particolari che appunto ha riprodotto Raffaello nell'app fresco e queste maniche piuttosto importanti che abbiamo visto un'altra cosa interessante che rimane una caratteristica delle guardie svizzere anche se oggi ci sembra veramente una cosa anacronistica è l'utilizzo dell'alabarda questa speciale lancia che a secondo del grado della guardia svizzera cambia nella forma e quindi ecco è l'elemento anche affascinante perché un po' è decisamente retro ecco diciamo così con tutti i crismi gli archetipi che si possono accostare perché è affascinante proprio questo racchiude un retaggio storico e come tornare un po' indietro nel tempo un qualcosa di contemporaneo ma che effettivamente non lo è perché sa di antico beh sì sa di antico e questa è forse la cosa più particolare del Vaticano e anzitutto la guardia svizzera è l'esercito più piccolo al mondo inoltre ha ancora un uniforme che comunque richiama in maniera veramente importante le uniformi cinquecentesche e preserva ancora tutti quanti i canoni ecco l'unica concessione che è stata fatta adesso l'abbiamo visto ecco nelle immagini che è stato concesso di togliersi questa gorgiera che era veramente insopportabile insomma ecco al collo e che è stata sostituita da un colletto inamidato ma sicuramente più comodo e più pratico soprattutto se immaginiamo le ore di picchetto che fanno agli ingressi della Santa Sede perché ricordiamo che l'unico corpo militare che si occupa della sicurezza del Santo Padre è la guardia svizzera dal 1506 quindi dietro comunque ecco questo aspetto molto non tutti possono assolutamente diventare guardie svizzera assolutamente no ci sono dei regolamenti ben precisi sì su questo ci sono dei regolamenti molto precisi e molto stringenti perché anzitutto occorre essere di nazionalità svizzera ovviamente di fede cristiana e occorre aver fatto un corso da da allievo ufficiale potremmo definirlo e l'età compresa per l'arruolamento va dai 19 ai 30 anni nel momento in cui si accetta di far parte di questo compito si accetta anche di rimanere in servizio per almeno tre anni e un'altra curiosità di solito ecco sappiamo che per i militari occorre avere una certa altezza per diventare una guardia svizzera non occorre essere di un'altezza pari o superiori al metro e 74 ovviamente c'è da dire questo parlando di questo corpo particolare che ha seguito comunque degli attentati al Santo Padre nell'82 e comunque nella necessità di rivedere la sicurezza per sia per l'accesso in Vaticano che per la persona del Santo Padre ovviamente insomma hanno rivisitato molto la loro il loro addestramento è comunque la loro preparazione e quindi non fanno soltanto il picchetto diciamo che è più un retaggio storico culturale ma hanno anche una preparazione veramente importante dal punto di vista della protezione della persona del Papa ritornando sulla iconica immagine figura di Raffaello Sanzio non so se la regia ci ha trovato per piacere l'immagine della scuola di Atene perché così volevo chiudere la puntata è salutarci perché in qualche modo è stato partorito lì il concetto della consapevolezza del sapere l'uomo detentore della conoscenza non a caso sono stati rappresentati i più grandi tra filosofi scienziati scopritori coloro che avevano appunto navigato i mari più importanti e trovato ecco nuovi continenti quindi è un'esaltazione dell'umanità della conoscenza dell'uomo e questa penso che sia una delle opere più belle a mio avviso che rappresentano tutti i tempi in tutti i modi possibili e immaginabili beh sì è estremamente affascinante e è proprio geniale l'idea che ha Raffaello perché immaginiamo che lui ha tentato di fare una foto di gruppo con tutti i più grandi pensatori della storia quindi si va dalla filosofia greca agli artisti magari più più recenti o suoi contemporanei e come dicevo prima è simpatico perché mette dentro veramente qualsiasi i più grossi pensatori che l'umanità ha avuto e non contento di questa operazione a molti di questi attribuisce delle facce che appartengono a importanti pensatori che sono suoi contemporanei non a caso ecco nella parte centrale c'è Leonardo da Vinci adesso non ricordo dovrebbe essere Socrate sì che appunto in persona in questo caso Socrate ma nello stesso tempo è anche Leonardo da Vinci quindi è un affresco estremamente geniale perché mette assieme i pensatori del passato ma anche elementi più brillanti che lui ha probabilmente anche incontrato e conosciuto con cui si è confrontato e è penso uno degli affreschi più belli e più affascinanti che si trovano nelle sale vaticane poi in basso a destra se non sbaglio del dipinto guardandolo così frontalmente dovrebbe esserci lo stesso Raffaello che abbiamo visto poco fa nel ritaglio che avevi selezionato proprio tu ecco per ritornare si è anche rappresentato in qualche modo lui ogni tanto si intrufolava comunque negli affreschi aveva comunque anche perché effettivamente era anche consapevole del suo del suo valore perché ecco a 37 anni era diventato uno dei pittori più importanti e più e più ascoltati tra le corti più importanti d'Italia e quindi soprattutto la corte pontificia che sicuramente era la committenza più prestigiosa che un artista poteva avere in quel periodo la poetica del bello oggi siamo riusciti veramente a trattare tutti i punti che riguarda questo grande punto di riferimento della nostra storia dobbiamo subito dare la linea alla regia ringrazio Marco Corradi per essere sempre qui pronto a raccontarci quelle che sono appunto le peculiarità di un periodo storico e le rappresentanze di quegli artisti ma soprattutto le curiosità e le attinenze che poi si sono sviluppate di mano a mano con la nostra evoluzione con il nostro sapere con la nostra tradizione con la nostra conoscenza e la nostra bellezza quella bellezza che ci salverà ci vediamo domani per un'altra nuova giornata insieme abbiamo iniziato questa settimana e vi auguro buon proseguimento di serata grazie Rezia grazie per averci seguito a domani puntuali come sempre a 17 grazie a tutti